Ciao, buona domenica ed eccoci qui con un nuovo video a tema Barbie. Avevo detto che questa settimana le avrei saltati, però diciamo che sono riuscito a ritrovarmi uno spazio e quindi eccoci qui con lo chalet di montagna di Barbie, tratto dalla sede Barbie Life and the Dream House. Qui abbiamo un po' la panoramica della scatola, abbiamo anche il camper consigliato dai 3 anni su e questa è appunto la forma della scatola, tutto in cartone, ci mostra una panoramica, contiene 20 più accessori. Qui abbiamo appunto sopra la scatola tutta rosa glitter con il logo Barbie a forma di camino, ai lati sempre il logo Barbie e uno sfondo innevato e qui invece abbiamo il logo Barbie e Barbie della serie Life and the Dream House. Qui invece abbiamo Barbie, Skipper, Stacy e varie versioni di Chelsea sulla neve, purtroppo non le ho trovate queste versioni e infatti ne ho messa un'altra all'interno. E qui invece una panoramica del nostro chalet di montagna e varie scene della serie Life and the Dream House. Adesso io mi sposto e vi faccio vedere lo chalet che ho già montato per appunto fare prima, perché comunque sembra facile, però aveva tanti pezzettini da assemblare, quindi non era molto facile. Adesso mi sposto ed eccolo qui. Bendissimo. Allora, vediamolo nei dettagli. Un punto qui sopra, abbiamo il camino che è tutto innevato, come potete vedere. Molto bello. Qui abbiamo la porta che si apre, il lampadario e qua abbiamo invece un quadro con Barbie e le sue sorelle, una scena del film Il Natale Perfetto. Un fiorellino, qui abbiamo sulla parete un coniglietto, quindi sai, il camino, il fuoco. Arriva anche con due stivali, poi ci sono le sedie, c'è anche un cartoncino appunto che funge da pavimento, questo è il tavolo. Gli oggetti stanno appunto, si mantengono perché possono essere fissati. E abbiamo anche questo delizioso cagnolino Rudy, quello proprio del film Il Natale Perfetto, incluso. Qui abbiamo la macchinetta per fare il caffè o una spremuta d'arancia. Mentre qua abbiamo la teghiera, messa sul fuoco. E poi ovviamente Barbie che si sta prendendo un caffè. E questa Barbie l'ho scelta io da metterla qui dentro ed è la Barbie Style Glam. Che appunto ha un abbignamento consono, diciamo, anche al luogo in cui si trova. E questa è lei con la giacchetta in pelle, una magliettina rosa, i pantaloni, le scarpe. È molto, molto bella e ha le ciglia vere, la sua particolarità. Molto bella. Questa è la borsetta di Barbie. Qui possiamo appunto... Vabbè, c'è il nastro, non l'ho tolto. Ah, sì, l'ho tolto. Qui ci possono riporre tutti altri accessori. Però, come vedete, già sono disegnati, quindi già si... Diciamo, già risulta pieno. E poi qui abbiamo il forno. Penso che sia il forno, sì. Il fornelletto. Poi, adesso lo vediamo, diciamo, dalla parte esterna. Vedete che bella la parte esterna. Molto carino. Questo pupazzo di neve, diciamo che potrebbe anche essere esposto durante il periodo natalizio con una Barbie Oli dei vicino. Secondo me all'interno ci starebbe proprio doc. Ecco, perché comunque è molto di Natale. Quindi è molto pertinente al periodo. Molto bello. Bene, amici. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like. E se vi va, iscrivetevi al canale. Noi vi auguriamo una buona settimana. Ci prendiamo un bel tazzone di cioccolata calda. E ci vediamo presto. Ciao!